Questa scarica cos'è? Una scossa insopportabile Vorrei respirare ma Sembra impossibile Ho fatto il test Ok È positivo Abbiamo fatto un casino Andrea non ci ha pensato un attimo a fregarsene di me e dei miei problemi Ma adesso sono qui? Non ci sono io Perché sono sola Sola non lo sei, no? Ambra, avere un figlio è una cosa talmente gigantesca Quando è il momento Eppure posso dirti è la cosa più bella che ti possa capitare I figli non rovinano mai la vita Sono un motivo per vivere Andare avanti Ambra non deve più soffrire Ti amo Elia E il papà è stato importante per questo piccolo Libera 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 Libera